Buongiorno, benvenuti a tutti a questo appuntamento del venerdì con il CESPI e l'Istituto Trecani che vi dà il benvenuto. Ci scusiamo per questo piccolo ritardo dovuto appunto ai problemi tecnici che ci accompagnano in questo periodo. Volevo un po' introdurre brevemente l'incontro di oggi. Oggi sarà con noi Mauro Palma, garante per le persone private della libertà personale e così riprendo un po' il senso di questi incontri proposti appunto dall'Osservatorio Diritti Umani, un po' un tentativo di rileggere l'esperienza della pandemia a partire dalle sue conseguenze in un'ottica specifica che è quella della lettura dei diritti fondamentali dell'individuo. La pandemia ha imposto tutta una serie di misure che hanno compresso tutta una serie di diritti e però questa compressione ha avuto un impatto diverso a seconda delle condizioni di ciascuno. Ecco allora ci sembrava importante fornire alcune chiavi di lettura e alcuni punti di vista specifici per comprendere ciò che è accaduto, ciò che sta accadendo perché poi tutto questo ha una storia, un'evoluzione. Abbiamo scelto tre ambiti, tre punti di osservazione privilegiati che hanno a che fare con tre categorie di persone cosiddette vulnerabili. Perché? Perché la sospensione o comunque la compressione dei diritti appunto acquista un significato diverso in funzione della condizione di partenza, di vulnerabilità in cui si trovano a vivere alcune persone. E questo ci sembrava importante farlo dialogare con un principio di solidarietà che è scritto, che caratterizza o almeno dovrebbe caratterizzare il nostro ordinamento giuridico e insomma è un po' a fondamento della nostra società, almeno come l'hanno pensato i padri costituenti nella Costituzione. Per cui abbiamo scelto tre ambiti di vulnerabilità, quello dei minori che abbiamo visto il 30 aprile con il magistrato Pricoco, le persone private della libertà che non sono solo i detenuti ma ci sono tutta una serie di altre categorie, basti pensare appunto al tema dei migranti nelle navi quarantena e poi il prossimo incontro sarà dedicato alle vulnerabilità in ambito sanitario. Ecco io ho il piacere e anche veramente lo onore di presentare appunto il nostro interlocutore di oggi, dottor Mauro Palma, garante appunto nazionale dei diritti delle persone private della libertà sin dalla Costituzione di questa autorità indipendente nel 2016. Il dottor Palma è anche fondatore dell'Associazione Antigone, componente e poi presidente del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e del Trattamento presso il Consiglio d'Europa ed è appunto uno dei massimi esperti a livello internazionale sui temi della lotta alla tortura e le diverse forme di privazione della libertà. Io le lascio volentieri la parola e la ringrazio in anticipo. Benissimo, buongiorno, grazie grazie anzi dell'invito. A me fa sempre piacere diciamo riuscire a spiegare qual è la complessità ma anche l'omogeneità di un settore così vasto, quale è quello delle persone private della libertà personale. Private della libertà personale per motivazioni diverse e come forse è noto il garante nel doversi occupare di queste aree ha davanti un panorama di diversità. Da un lato c'è un'area penale, quindi persone private della libertà personale per ciò che hanno compiuto. Da un altro lato c'è un'area relativa ai migranti, persone private della libertà personale per una irregolarità amministrativa, per una presenza agricolare nel territorio, poi su ogni area di qualcosa. Da un altro lato ancora ci sono persone private della libertà per questioni di tipo sanitario, molto spesso riferite a un disagio psichico che può avere molteplici ragioni ma che si ritrovano per un periodo della loro esistenza all'interno di un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, fino a giungere a persone di fatto private della libertà personale in situazioni di accoglienza e supporto che in talune circostanze della vita dovute all'età, dovute all'essere eventualmente rimasti soli senza sostegno, si ritrovano lì senza nulla aver commesso ma semplicemente per le vicissitudini della propria esistenza. Quindi un panorama composito tenuto però insieme dallo stesso filo che è il filo di non poter determinare il proprio tempo, di non poter determinare il proprio movimento e dell'essere, diciamo, posti all'interno di una struttura che in qualche modo finisce con gestire quasi totalmente, in alcuni casi totalmente, il loro tempo. Partirei dal periodo che abbiamo vissuto nell'ultimo anno riprendendo una metafora che avevo già utilizzato nello scorso anno nella mia relazione al Parlamento. Dico per inciso che il Garante Nazionale è tenuto a rivolgersi al Parlamento ogni anno per far presente i problemi delle diverse aree della sua competenza e anche per richiedere quei quegli incrementi di tipo legislativo che ritiene necessari. È un'ottima occasione potersi rivolgere alle autorità dello Stato in maniera larga. Qualche volta è stato presente anche il Presidente della Repubblica in questi anni, altre volte i Presidenti delle Camere, sempre i membri del governo. E nel rivolgermi loro io ho utilizzato una metafora felliniana. La riprendevo da un film di Fellini che forse alcuni ricordano che è Prova di Orchestra. C'è questa orchestra che nel, in una piuttosto anche confusa diciamo sessione di prove, mentre sta provando con anche difficoltà, improvvisamente è interrotta da un'enorme sfera d'acciaio che sfonda la parete e che crea scompiglio tra gli orchestrali. Un evento inatteso, un evento che sfonda una parete che distrugge anche lo schema relazionale dell'orchestra. In fondo l'orchestra è una bella metafora della collettività, diciamo, della società ed è improvvisamente interrogata da questo colpo di Gong che la scompiglia completamente. Dopo lo sconcerto, dopo il riassesto diciamo più o meno diverso da prima degli spazi della parete stessa, l'orchestra riprova a suonare. Ma riprovando a suonare si rende conto che nulla è come prima. Molte delle relazioni che c'erano precedentemente si sono logorate o comunque sono mutate e nel film il direttore d'orchestra cerca di riportare l'ordine e devo dire che sempre di più il suo riportare l'ordine è un riportarlo con una metodologia autoritaria. L'orchestra prende, come dire, una piega di tipo irricimentato, autoritario e questo è uno dei rischi, diciamo, ma la metafora a me serve per capire tre aspetti. Lo scompiglio in un mondo che appareva coeso come può essere il mondo di una situazione di accoglienza, di un luogo chiuso, l'irruzione diciamo che muta i rapporti, la difficoltà di trovare un nuovo assetto, i rischi che il nuovo assetto sia qualcosa che non corrisponde alle attese che si avevano precedentemente. E allora prendo da questa metafora la domanda di fondo cosa è accaduto, cosa ci lascerà e come in qualche modo ritornare a far funzionare meglio di prima e non peggio di prima queste diverse situazioni di privazione della libertà alla luce dell'esperienza che traumaticamente le hanno attraversato. In queste situazioni innanzitutto cosa è accaduto. Ma è accaduto un po' ovunque che all'ansia di per sé congenita in un posto dove le persone non sono libere di determinare, come dicevo prima, il proprio tempo e il proprio movimento, ha quest'ansia che già intrinseca in un luogo chiuso e che accomuna i luoghi chiusi e che fa sì che ci debba essere un garante complessivo per stare i luoghi perché anche se le motivazioni sono diverse, le vulnerabilità che si riscontrano all'interno di ciascuna di queste istituzioni sono molto simili tra di loro. Dicevo accanto a quest'ansia intrinseca del luogo chiuso si è aggiunta l'ansia che proveniva dal di fuori e che in qualche modo riguardava tutti noi. Riguardava tutti noi per l'evento inatteso, per l'evento sconosciuto, per l'evento di cui implicitamente tutti noi potevamo essere portatori. non eravamo in qualche in un certo senso soltanto come dire vittime oggetto di ciò che accadeva, ma eravamo anche noi portatori potenziali, soggetti di questa stessa eruzione che scompigliava il nostro assetto sociale. Sono due ansie che in questi luoghi si sono alimentate anche con le indicazioni che i mezzi di informazione diffondevano un po' ovunque e che chiedevano comportamenti che all'interno di quei luoghi non sarebbero stati possibili. Si chiedeva di essere distanziati in luoghi che sono invece strutturalmente troppo densi. Lo erano prima, lo erano prima dell'irruzione dell'evento stesso, ora quella densità che prima era magari considerata come tollerabile appariva appunto elemento di ancor peggiore pericolo, perché mentre si sentiva la televisione dire che era importante mantenere i due metri di distanza, se si poteva trovare in un carcere dove le persone avevano assento i tre metri e quattro ciascuno di spazio vitale, no? In qualche modo l'Italia era stata condannata pochi anni fa per un insufficiente spazio vitale per ciascun individuo all'interno del carcere, quindi si rendeva conto che quella non era una misura praticabile. Analogamente anche le misure igieniche o inizialmente i dispositivi di protezione che erano insufficienti. Ma non solo nel carcere avveniva questo, avveniva per esempio un'ansia aggiuntiva nei centri per i migranti che erano centri per il rimpatrio, erano, sono centri per il rimpatrio, centri dove le persone sono trattenute in funzione dell'essere rimpatriate e il rimpatrio già di per sé è una questione di ansia, per molti è, come dire, il punto d'arrivo di un fallimento, la certificazione di un fallimento, di essersi allontanati dalla propria realtà conosciuta e nota, verso una realtà sconosciuta nella speranza di una vita diversa, di una vita migliore. E ora l'essere rinviato indietro significa sempre che quell'altrove non c'è, non c'è stato, quindi si ritorna. Ma se ha questa ansia poi aggiungiamo il fatto di sapere che non è neppure possibile il rimpatrio perché intanto si chiudevano gli aeroporti e porti e quindi si era costretti a rimanere, ecco che anche in questo mondo l'ansia diventava appunto una doppia ansia. Lo era anche nelle residenze per anziani e per disabili, in particolare in quelle per anziani molto spesso in Italia abbiamo un sistema per cui si tratta di strutture private convenzionate. Queste strutture private convenzionate ottengono la convenzione per un certo numero di posti di ospitalità che sono molto basati sui posti letto. In qualche modo questa densità del proprio alloggio per la notte dei posti letto è compensata dall'avere due o tre spazi comuni in cui trascorrere la giornata, a volte uno spazio all'esterno, più volte degli spazi all'interno. Ebbene, il contagio, il rischio di contagio portava alla chiusura proprio di questi spazi. Si cominciava a dover mangiare in camera e allora la densità di quelle convenzioni, che quelle convenzioni non avevano considerato sufficientemente, faceva sì che lo spazio vitale si riduceva ad una sorta di corsia ospedaliera, cioè il numero di posti letto. E quel letto diventava non solo all'interno di una struttura chiusa, ma diventava la chiusura dentro una struttura chiusa. E lo erano anche la doppia ansia nelle residenze per i disabili, laddove molti dei percorsi cognitivi di recupero avvenivano attraverso il contatto con operatori e figure esterne che improvvisamente non entravano più. E quindi non c'erano più e quindi anche quel percorso cognitivo che il soggetto andava compiendo era un percorso che rischiava invece o di fermarsi o addirittura di retroagire. Ho descritto queste tre o quattro situazioni per indicare come in ciascuna di esse si verificasse una doppia ansia. E la doppia ansia a volte può essere produttrice di depressione e inazione, diciamo, e quindi di rimanere all'interno del proprio mondo. E questo purtroppo ho dovuto verificarlo in molte situazioni, soprattutto di disabilità o di persone anziane. Tenete presente, lo dico per inciso, che il Garante Nazionale, pur con strettissimi protocolli di tutela rispetto al contagio, che fa sì che, passatemi la battuta, che il mio naso sia uno dei più percorsi maggiori di tamponi fatti ovunque. Dicevo, il Garante Nazionale, pur con protocolli molto stretti, ha continuato a visitare questi luoghi. Quindi queste ansie le abbiamo viste. E il, dicevo, la doppia ansia che oltre a svilupparsi in questi luoghi in termini molto spesso di cupezza, di arretramento, diciamo, un pochino solipsistico della persona che si chiudeva in sé, in altri ambiti, come il carcere, si è invece sviluppata in termini di boat esplosivo. Di situazioni molti di voi ricorderanno che l'otto marzo, il sette pomeriggio, l'otto e il nove marzo scorso, in ben 49 istituti, del totale panorama di 190 istituti penitenziari in Italia, 49, quindi circa un buon quarto degli istituti, ci sono state delle rivolte. Ci sono state delle rivolte di tipo esplosivo che hanno prodotto 13 morti. 13 morti su cui c'è stata ben poca riflessione. Sono state, tutti noi siamo stati molto presi dalla situazione che vivevamo all'esterno e abbiamo pensato a queste morti che si sono prodotti, non voglio fare un discorso di Cine è stato responsabile, ma pensato come tipo di riflessione culturale che dovevamo fare, culturale e sociale, abbiamo pensato molto spesso a questi morti come a danni collaterali, direi utilizzando un linguaggio un po' che si usa negli scenari bellici, casualities praticamente, cioè situazioni che si sono verificate al lato. Di molti di loro era difficile inizialmente chiedere, sapere il nome. Io ho chiesto i nomi e mi sono presentato come garante nazionale, come persona offesa nelle indagini, non tanto perché vedessi delle responsabilità, ma per dare soggettività a queste persone che erano morte, che non potevano essere soltanto un numero. Ci sono stati 13 morti che hanno in qualche modo dato a noi come comunicazione plastica, visibile, la drammaticità di quel colpo di gong e di quella palla che era entrata d'acciaio dentro questa anche stentata orchestra che poteva essere il mondo detentivo. Questo è stato l'inizio, l'inizio, l'arrivo, la doppia ansia vissuta in maniera diversa perché qui le diverse forme invece di privazione della libertà si differenziano, perché diverse sono le soggettività di chi vive questa condizione. Da un lato una cupezza è un richiudersi, da un altro lato un esplodere. Come si è risolto l'esplodere? Come è rientrato? Può sembrare molto strano, ma l'esplodere è molto rientrato dopo, ripeto, la drammaticità dei morti, su cui ancora peraltro ci sono delle indagini anche aperte per capire se abbiamo fatto tutto, per esempio, per evitarli. Dicevo, dopo quel momento l'amministrazione penitenziaria ha, secondo me in maniera molto giusta, distribuito un numero molto alto di alcune migliaia di smartphone negli istituti penitenziari. Le ha date ovviamente nelle mani di chi gestisce, del personale, perché le persone dentro potessero avere comunicazione con i propri cari vedendosi attraverso gli smartphone. E questo ha avuto un effetto estremamente positivo che ci fa riflettere su come far suonare nuovamente l'orchestra quando gli effetti della sfera finiranno. Perché vedete per molte persone questo è stato un ricollegarsi ai propri ambienti. Persone che vivono in ambienti diversi dal proprio ambiente naturale, nel momento in cui hanno rivisto i propri mobili, la propria casa, i propri ambienti, non soltanto la telefonata, ma lo smartphone in qualche modo dava la possibilità di rivedere i propri spazi, hanno realizzato un riallaccio di una connessione con il proprio spazio che ha avuto effetti estremamente positivi. A volte vedendo anche persone che per esempio non andavano a trovarli in carcere o in altri luoghi, perché non andavano a trovare le persone anziane o troppo piccole e che invece attraverso e che nel colloquio, nel colloquio ogni detenuto vede il proprio compagno, la propria compagna, i figli, molte figure molto molto vicine. Magari non ne vede altre però che costruiscono il proprio insieme degli affetti. Allora questo ci ha fatto capire che per esempio le tecnologie possono essere uno strumento utile, l'ha fatto capire ad un'amministrazione penitenziaria che è molto diffidente sulle tecnologie, che molto spesso pensa che possano veicolare chissà quale informazioni. In questo caso sono state un elemento di riconciliazione e di riconnessione con il mondo esterno nella dimensione di dire questo non è un mondo altro, è parte di quel mondo esterno, è stata un'altra parte ma c'è un'appartenenza reciproca. Questa situazione purtroppo in alcune situazioni invece di disabilità non è stata possibile attuarla. Perché non è stata possibile attuarla? Parlo di disabilità molto gravi perché pur avendola attuata non ha avuto questo effetto perché in alcune di queste condizioni l'elemento tattile è un elemento estremamente importante. Il toccarsi è un elemento comunicativo ben maggiore dell'elemento che può dare il vedere l'immagine attraverso uno schermo. Per questo per esempio dopo mesi passati in maniera devo dire ehm disperante che produceva anche a noi che eh visitavamo molta angoscia della persona disabile o aziana accompagnata all'atrio di una struttura residenziale con il parente al di là della porta d'ingresso nel giardino antistante e che a distanza senza capirsi in qualche modo cercavano di di dimostrare alla persona ospitata che loro erano tuttora presenti e con effetti spesso non soddisfacenti dopo un periodo troppo lungo che io ho censurato per il fatto di per la scarsa capacità di immaginazione anche di pensare come realizzare dopo quel periodo si è cominciato ma qui siamo già dopo l'estate scorsa a mettere alcuni teli che permettevano un contatto per anche se diciamo senza che il contatto poi fisico concreto avvenisse a pensare altre forme di utilizzo di 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 alcuni spazi in cui ci si potesse vedere via dicendo fino a giungere ad un richiamo che io ho dovuto fare alle ehm la competenza regionale voi sapete le strutture sanitarie sono di competenza regionale ho dovuto fare a tutti i presidenti delle regioni con maggiore o minore capacità di accogliere la mia indicazione a secondo delle regioni a che si bilanciasse ciò che si andava perdendo in maniera poi senza possibilità di recuperare il nome di un rischio che era vero ma che poteva essere anche tutelato in altri modi perché come ci insegnava tanti anni fa ed è una gran perdita che non anche questo periodo non sia stato con noi però i tempi dell'anagrafe sono quelli Stefano Rodotà ci insegnava anni fa quando diciamo che noi tuteliamo la vita quando noi e lo affermiamo come valore assoluto è uno dei valori e che affermato dal nella convenzione europea dei diritti dell'uomo ed è uno dei quattro dei quattro articoli inderogabili no la tutela della vita è un impegno inderogabile degli stati ma quando tuteliamo la vita dobbiamo metterci d'accordo sul termine vita soprattutto quando si tratta della vita di una persona nell'ultimo tratto della propria esistenza noi dobbiamo tutelare una vita in senso ampio cioè una vita dignitosa una vita dignitosa che ce ne dobbiamo mettere questo aggettivo mentalmente vicino non solo una vita biologica lo abbiamo detto in tante altre situazioni sul fine vita sulla sofferenza i dolori eccetera anche sugli aspetti relazionali perché troppe persone hanno vissuto l'ultimo tratto della loro vita come vita solitaria vita non più relazionale vita di una persona che non corrispondeva più a quel concetto di persona che è implicito nella nostra costituzione che non la vuole come monade come svincolata dal resto ma la vuole come elemento reticolare relazionale la persona è in quanto è anche i suoi affetti quindi dicevo per alcuni settori si è settori in particolare del carcere si è provveduto a intervenire e attraverso l'utilizzo delle tecnologie in altri settori le tecnologie hanno potuto qualcosa sappiamo bene che c'è stata una disponibilità forte del personale a farsi anche veicolo di queste tecnologie ma ci sono anche settori in cui non sono state sufficienti a garantire quella relazionalità che è importante per ogni persona ma in maniera particolare per le persone che sono affette da una particolare minorità fisica che è psichica o che sono nell'ultimo tratto della loro vita detto questo quadro diciamo se volete problematico e negativo io vorrei un attimo vedere il quadro positivo che può ridare vita ad un'orchestra che torni a suonare in maniera più consapevole scompriamo subito il campo da una frase sentita troppo dolte e troppo falsa e devo dire la sua falsità è dimostrata anche dal fatto che sia cespi che tre cani hanno voluto organizzare proprio questo tipo di conversazioni proprio perché consapevoli di quanto fosse falso dire che abbiamo tutti vissuto la stessa esperienza di privazione della libertà una falsità queste nostre conversazioni centrano proprio la loro attenzione su quanto specifica è stata sul piano dei diritti la quella privazione di tutti che abbiamo vissuto tutti nel momento in cui si è innestata laddove già privazione c'era laddove già vulnerabilità era presente proprio la ragion detto la ragion detto di questi incontri direi lo testimonia scombrato il campo quindi da quella sorta di falsa rappresentazione cosa possiamo raccogliere di positivo e da ciò che abbiamo vissuto e da ciò che stiamo vivendo e ci speriamo di non rivivere in futuro io dico che quello che noi abbiamo vissuto di positivo è innanzitutto concentrato nel fatto che ci sono problemi rispetto ai quali non potremo mai dire di non essere consapevoli cioè in qualche modo usciamo sapendo che alcune questioni esistono e ne cito subito due la prima quando si è detto tutti nelle proprie case rimanere a casa è emerso lampante e evidente diciamo il problema dei senza fissa dimora e senza fissa dimora sono spesso invisibili nella nostra società sono spesso anche in carcere sono spesso invisibili questa mattina parlando a degli studenti che mi chiedevano i numeri sulla detenzione li ho in qualche modo stupiti dicendo loro che oggi oggi proprio ci sono in carcere 1.140 persone che sono state condannate badate bene non un residuo di pena ma proprio la condanna ad una pena inferiore a un anno allora per una pena così piccola rispetto alle quali ci sono tante misure alternative possibili tante forme di sospensione condizionale misura alternativa o di modalità diverse di esecuzione penale per una pena così piccola perché si è rimasti all'interno del carcere perché si è dentro il carcere beh se uno va a vedere questo gruppo questo insieme di 1.140 persone rappresenta come dire l'immagine plastica della povertà povertà intesa come povertà di strumenti sociali povertà di relazioni povertà di difesa povertà di sostegno fino ad arrivare anche povertà di mezzi di sussistenza elementari quale la dimora perché vedete il provvedimento che il governo precedente ha varato pur con grande e sgradevole chiasso di qualche organo di informazione di prevedere per le persone anziane o con malattia con una pena contenuta e limitata di dare per queste persone la detenzione domiciliare invece che la detenzione in carcere ancora una volta ha chiamato in causa quel minimo di struttura che comunque la persona deve avere una casa un domicilio e ancora una volta i magistrati di sorveglianza si sono trovati a non poterlo concedere a coloro che questo requisito minimo non l'avevano o lo avevano in un campo nomadi in una baracca in situazioni che non poteva e non potevano essere di garanzia per il magistrato allora un primo punto che è emerso è che questa povertà estrema questi senza pista dimora esistono nel nostro paese giorni fa sono stato ricevuto da Papa Francesco che voleva parlare di una serie di problemi relativi alla privazione della libertà e uno dei problemi su cui ha concentrato poi questo incontro con il garante era proprio senza fissa dimora e come vaccinare senza fissa dimora come fare il tampone senza fissa dimora come prevedere per loro quelle tutele mine io amaramente riflettevo che il sistema di giustizia e il sistema di giustizia penale in particolare dovrebbe essere una grande macchina che diminuisce le differenze con cui i soggetti arrivano ad essi adesso diminuisce le differenze che già vivono nel sociale invece molto spesso è un amplificatore diversi nella società nel momento in cui commettono un reato i reati inferiore a un anno sono spesso oltraggio aver risposto male o dato una botta alla persona che anche giustamente per un problema di sicurezza urbana ti svegliava alla gente che ti svegliava per dire che stavi sraiato per strada sono reati di piccola questione ebbene tutto questo mondo in qualche modo noi non possiamo più dire di non conoscerlo questo è un elemento positivo è un elemento di consapevolezza perché quel sistema di giustizia che ti trova diverso nella società ti fa trovare ancora più diverso nel sistema penale perché magari non hai una buona difesa è ancora più diverso nell'esecuzione della pena perché anche una pena piccola così finisci con la scontare all'interno del carcere la seconda riflessione che in qualche modo può venire fuori da questo periodo noi veniamo da un periodo precedente in cui abbiamo riflettuto anche giustamente sul mutamento del lavoro il mutamento del lavoro ci ha portato molto spesso a glorificare forme estremamente flessibili del lavoro per cui è diventato quasi un valore che il lavoro non avesse alcun elemento di fissità e che fosse mutevole mutabile mutabile anche da parte della persona ma anche da parte del datore di lavoro e quindi potevi in qualche modo poi trovare la possibilità di cambiarlo di andare da un'altra parte ebbene questa esperienza ci ha fatto capire come molta di questa mutevolezza possibile nascondesse una profonda indifesa precarietà per cui le persone poi rimanevano senza il lavoro perché quel tipo diciamo di mobilità si bloccava immediatamente allora anche qui dovremmo tornare a riflettere sul lavoro non perché vogliamo tornare a forme come dire di lavoro stabile forte per forza eccetera ma perché dobbiamo tornare a forme di lavoro che sappiano inventarsi nuove tutele prima ancora di affermare un nuovo modello un nuovo modello esiste se esiste anche un nuovo modello di tutele perché altrimenti mi si può chiedere cosa c'entri te che parli di privazione della libertà perché vedete altrimenti il punto di arrivo molto spesso di queste vite frammentate finisce per essere un luogo dove le persone o hanno bisogno di essere accudite o vanno a finire perché hanno sbagliato la precarietà è anche produttrice di irregolarità è anche produttrice di scorzatoie che a volte possono essere veramente delle tè e allora anche questo l'abbiamo imparato e dobbiamo saperlo applicare abbiamo anche imparato che una accentuazione di una diversificazione regionale del nostro paese se non si salda o ha una capacità molto forte di tenere coesi le differenze che albergano nei vari territori può rischiare di diventare egoistica frantumazione ho sentito pessime frasi perfino nel richiedere per il proprio territorio più vaccini o meno vaccini l'elemento come dire di coesione è un elemento importante e noi forse come paese lo dovremmo ancora ritrovare io cito sempre un esempio non perché non mi piacciono gli esempi dell'estero proposto come positivo tutt'altro ho vissuto per molti anni come controllore della realtà europea da conoscerne tutte le magagne però cito un esempio quando io presedevo a Strasburgo il comitato e scrivevo alle autorità del nostro paese per contestare qualche cosa ottenevo sempre risposte del tipo il governo italiano ripensa che ritiene che eccetera eccetera quando scrivevo alle autorità francesi ottenevo la risposta del tipo la Francia pensa che eccetera eccetera c'è una differenza tra rispondere la Francia pensa che e rispondere il governo italiano pensa che c'è una identificazione collettiva che forse noi dovremmo in qualche modo ritrovare non per uno statalismo ma perché almeno sul piano sanitario abbiamo sperimentato come la diversificazione non ha significato maggiore capacità da ultimo da ultimo un'ultima cosa di queste che dobbiamo imparare secondo che possiamo aver imparato è il concetto di salute che il concetto di salute noi troppo spesso l'abbiamo voi sapete che l'articolo 32 della Costituzione ci dice che la tutela della salute la salute è un diritto fondamentale la Costituzione usa che è molto parca di aggettivi usa l'aggettivo fondamentale proprio soltanto all'articolo 32 e la salute è un bene in sé che è ben diverso da quella forma un po' consumistica con cui noi eravamo abituati a declinarlo intendendo per salute la risposta a patologie già manifestate e quindi la risposta a interventi come dire posticipati rispetto a situazioni che si sono manifestate no abbiamo dobbiamo capire un concetto un po' più ampio di salute che salute è benessere e dobbiamo capire che salute è orientamento salute è farsi carico salute è anche istruzione il benessere va istruito va organizzato le persone devono essere formate che riguarda l'ambiente non riguarda soltanto la mia patologia riguarda il nostro essere in maniera armonica in un contesto armonico se mi si può passare una come dire un'immagine un pochino non retorica ma un pochino suggestiva vedete quando poi Giove decise di tramutare Asclepio che era quello che diverrà Esculapio poi nella tradizione romana e quindi la tutela della salute decide di farlo fuori di sublimarlo lo fa divenire una costellazione diventa una costellazione diventa un'indicazione e c'è un'indicazione anche in quel serpente attorcigliato attorno al bastone che è l'indicazione di come si può portare il serpente cambia pelle no? come si può portare al cambiamento guidando noi dobbiamo recuperare un senso di benessere come ragione fondamentale di quella tutela del diritto alla salute un ultimo punto non vi voglio tediare troppo rispetto a questo periodo rispetto a questo periodo c'è un'ultima riflessione che devo sviluppare perché è quella dei diritti delle persone i diritti delle persone non sto qui a dirlo persone ho visto che c'è stato Vladimir Zagrebelsky ci sono stati tanti altri che hanno ben più titolo di me a parlarne per vari ruoli avuti eccetera però c'è un diritto su cui io mi vorrei soffermare non mi soffermo appunto sui diritti incomprimibili della persona che vanno non mi soffermo neanche sui diritti del cittadino e quanto tale ma c'è un diritto che è secondo me l'unico diritto tipico di chi è privato della libertà personale in aggiunta agli altri gli altri non demordono i diritti della persona sono incomprimibili quelli del cittadino possono essere regolati in alcune situazioni ma non perdono il loro statuto di diritto ma poi c'è un diritto fondamentale e il diritto a che la privazione che io subisco della libertà personale sia realmente finalizzata a ciò che l'ha autorizzata e allora questo significa che non può essere un tempo vuoto non può essere un tempo perso nell'esistenza se io sono in carcere ho diritto a che questo tempo sia realmente finalizzato a ciò che la Costituzione dice deve essere la finalità della mia pena questa indicazione costituzionale diviene un diritto soggettivo a che il mio tempo sia ciò finalizzato se io sono in una struttura di diagnosi e cura ho diritto a che lì dentro io possa avere un servizio di diagnosi e cura che non sia soltanto un allontanamento della società se io sono in una situazione di centro per il rimpatrio ho diritto a che io sia tenuto lì dentro se effettivamente ci sono le possibilità di rimpatrio perché se io sono tenuto lì dentro e non c'è l'accordo di cooperazione tra l'Italia e il paese dove dovrei essere mandato quello è semplicemente una misura sottrattiva del mio tempo vitale questo diritto intrinseco che è proprio della privazione della libertà noi secondo me lo dobbiamo affermare per forza perché il saper anche accettare questo ruolo complesso che la società si assume di privare un altro soggetto della sua libertà per ciò che ha fatto, per mille motivi eccetera a questo diciamo intitolazione di tale diritto terribile di privare un altro della libertà deve corrispondere il dovere alla sua finalizzazione altrimenti diventa un potere autoritario diventa un potere svincolato diciamo da quell'affidamento che la collettività mi ha fatto nel momento in cui mi ha dato questo esercizio per esempio l'esercizio giudiziario di poter dire ad una persona sarai per x tempo privato dalla libertà se a quello non corrisponde se a quello non corrisponde la finalizzazione costituzionale e se a quello non corrisponde la mia capacità di vigilanza affinché ciò avvenga e quello diventa una sorta di implicito arbitrio non soggettivo ma di arbitrio collettivo ecco questo chiude un pochino il cerchio quindi dell'occhio che il garante nazionale deve avere e fa capire perché deve avere un occhio un po' come quegli insetti che hanno un occhio fatto da molti occhi che in qualche modo riesca a vedere attraverso una sfericità le diverse sfaccettature ma che abbia un occhio che non sia mai un occhio come dire troppo abituato per cui non vede più perché tanto le disfunzioni si è abituato a vederlo e soprattutto che sia un occhio che sappia in qualche modo leggerle mi fermerei grazie grazie mille davvero io non so se intanto se qualcuno ha qualche riflessione o qualche domanda da rivolgere al dottor Palma io la ringrazio intanto per il quadro estremamente ampio e completo del suo ruolo ma soprattutto del tema del tema centrale due aspetti mi sollecitavano molto il punto di partenza il punto di arrivo cioè lei ha unito è partito dalla soggettività l'ansia quindi delle persone per arrivare all'oggettività dell'esercizio di un diritto e questo collegamento credo che sia fondamentale non solo per il ruolo di un garante ma per il funzionamento del sistema in quanto tale e l'altro aspetto che mi colpiva molto è proprio questo di un bisogno che la pandemia ha posto in essere ma che dal mio punto di vista continua per chi è privato della libertà personale di sentirsi parte di una realtà di una società tendenzialmente noi viviamo le persone private della libertà individuale come soggetti marginali o perché se non li percepiamo come pericolosi o comunque abbiamo paura di loro l'anziano il disabile crea e quindi tendiamo a dire e invece c'è un bisogno profondo non solo dell'individuo direi forse anche della società di porsi in dialogo di avere una relazione con queste realtà con che ne sono parte questi due aspetti secondo me appunto mi hanno mi sembravano molto interessanti proprio anche nell'ottica un po' di questi incontri di aiutarci a rileggere la pandemia per imparare delle cose che come diceva lei appunto alcune cose la pandemia le ha fatte emergere in positivo e in negativo non so se ci sono altre altre osservazioni altri che vogliono intervenire io avrei piacere a chiedere al dottor Palma una questione sulle RSA che mi era capitato di chiedere di avere uno scando con un referente di un RSA che mi diceva rispetto alla possibilità di familiari di entrare nell'RSA che ad oggi tuttora comunque non viene applicata sostanzialmente il familiare non può entrare nell'RSA e chi si trova a gestire quel centro si dice perché devo mettere a rischio la vita insomma degli anziani quando non so se l'anziano che pure ha fatto il vaccino non so se effettivamente ha sviluppato gli anticorpi non so se effettivamente che risposta ha avuto l'anziano al vaccino quindi insomma si trova un po' tra due frangenti vuole insomma di garantire all'anziano la forma insomma di affettività di un parente di un vicino di un prossimo ma al tempo stesso che garantirgli anche però il diritto alla salute e il diritto alla vita se effettivamente volevo sapere un po' da lei come la vedeva lei la questione allora innanzitutto una buona notizia perché diciamo nelle nuove regole che in qualche modo verranno fuori credo questa sera o al più lunedì ci potrà ci sarà di nuovo la possibilità di accesso quindi questo come dire ovviamente accesso controllato eccetera perché quelle due polarità a cui lei faceva riferimento ci sono tutte e due diciamo bisogna stare attenti ad una cosa e ad una cosa all'altra effettivamente diciamo esaminando la questione dai tre punti di vista la persona che entra in qualche modo la persona che entra la persona che è ospite e la persona che lavora è un pendolo che deve tenere l'equilibrio su tutti e tre diciamo deve trovare il baricentro di questo triangolo perché tenendo però presente che si tratta di persone molto dissimili tra di loro anche la persona che lavora osp entra tutti i giorni e non si capisce perché è meno infettante del parente se il parente in qualche modo dà tutte le garanzie o tutte vedete io quando entro in un RSA entro con una specie di palombaro con tutte bianche messe ovunque che cambio ormai ho imparato molto complicato il sapersi spogliare diciamo perché non devi ritoccare l'esterno diciamo delle varie cose che cambio anche quando vado dentro la stessa struttura da un corridoio ad un altro corridoio da una sezione a un'altra sezione dico questo per dire che volendo volendo si può riuscire volendo si può riuscire è chiaro stando molto molto attenti sono in queste tre polarità va comunque tenuta presente la diversità di ognuno una è una polarità di un soggetto che lì lavora che ha timore il timore io lo capisco ma che comunque deve sapere di poter essere lui anche lui un veicolo l'altra è la soggettività di un parente che molto spesso forse può sottovalutare il proprio la propria potenzialità negativa in termini di contagio preso dal desiderio di andare che deve essere in qualche modo come dire anche istruito formato aiutato supportato sempre prendersi cura 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 non è curare è prendersi cura delle persone come tipo di il terzo è l'anziano in cui la sua vita è molte volte tutta ristretta a quel rapporto perché non ha altre cose quindi in quel triangolo e in quel baricentro che io come pendolo devo trovare non ho tre vertici del triangolo uguali tra di loro hanno pesi diversi e dipende molto da situazione a situazione mi sono trovato anche però in RSA dove però il personale non si è voluto far vaccinare e questo come dire mi ha aperto una serie di problemi fermo restando invece la valutazione positiva di alcune persone sono andato su una nave quarantena sono andato su una nave quarantena nella rada di Palermo a due miglia e mezzo perché le navi non sono in porto stanno in rada molto spesso per non occupare il porto rispetto ai commerci eccetera e a due a due miglia e mezzo e anche lì altra situazione complessa altra situazione complessa in cui arrivando sicuramente sempre vestito da palombaro anche in quel caso e in quel caso tra l'altro ho dovuto fare diversi metri di scaletta di corda perché la la pilotina che arriva sotto è ben sotto l'apertura giustamente giustamente quando sono entrato dentro poi sono stato tenuto fermo a fare il tampone quello veloce io e anche chi mi accompagnava prima di potermi muovere separando le situazioni allora in qualche modo dico questi esempi per dire che c'è molta difficoltà siamo stati tutti molto stressati stiamo attenti a non prendere la scorciatoia in cui l'unica forma di tutela è negare io devo dire anche se sono uno molto poco aperturista rispetto ai rischi attuali sono sempre stato un po' colpito da un linguaggio che diceva come che presentava le norme in questo periodo a partire da una forma verbale che era del tipo è consentito questo quest'altro lasciava supporre che tutto il resto era vietato avrei preferito una norma che dicesse è vietato perché avrebbe lasciato supporre che tutto il resto era consentito grazie grazie va bene se non ci sono altre interlocuzioni la ringraziamo davvero tantissimo l'appuntamento è venerdì prossimo 21 maggio con Claudio Cartoni sulla tutela dei vulnerabili in ambito sanitario grazie ancora al dottor Palma ci vediamo venerdì grazie bene buon lavoro a voi a lei grazie grazie